ecco ma ci siamo collegati anche qua perchè è il nuovo allora vado 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 non ma Volevo fare una presa per poter attaccare la radio quando siamo qua. Con le femmine com'è? Puoi mettere proprio con tutti, con calma, deve avere cani che non le rompono le palle. Perché ha il suo caratterino? Si, nel senso che si sta aumentando però. Si fa valere insomma. Poi ha voglia di tranquillità, vedi come approccia gli altri che vanno via dritta con le orecchie dritte. Però, e poi ha bisogno di tranquillità questo cane. Tranquilla, non puoi metterlo tipo con quei scatenati. Vedi che sta riconoscendo bene? Si. Eh, doveva disintossicarsi. Mamma mia, ha avuto un processo di disintossicazione. Non ti freddo. Hai freddo a mettersi su una felpa in più, no? È tornata fredda. È tornata fredda. Sì. È un pisciatoio d'Italia qua. Bobo? 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 Beh, Dio. Se uno va in montagna si aspetta anche qui a freddo, eh. Ma si, ma è scivolo, devo andare su, proprio sul tremolo. Tu figlio, allora cominciò ad andare sulla roccia, è scivoloso. Vedi che è bello il pelo nuovo, si, si, bello, lucido. Ma torna normale, si, lo sta cambiando tutto, tutto. Brava, badatina, sta facendo piano piano.